Buongiorno, sono il professor Caputo, sono il coordinatore del corso di studio in Ingegneria Meccanica presso l'Università Roma 3 e mi trovo nel laboratorio di motori a combustione interna della nostra università. In questi prossimi minuti cercherò di illustrarvi in che cosa consiste l'ingegneria meccanica e cosa fa un ingegnere meccanico, sperando che questa possa diventare la vostra strada di carriera. L'ingegneria meccanica, se volessimo dare una definizione molto sintetica, è quell'insieme di conoscenze tecniche e scientifiche che consente di realizzare macchinari e prodotti utili all'uomo e di convertire le fonti di energia che la natura ci mette a disposizione in una forma utilizzabile direttamente per le attività umane. L'ingegneria meccanica è sicuramente una delle branche ingegneristiche che vanta una tradizione consolidata. Sicuramente l'ingegneria meccanico forse più noto è Leonardo da Vinci, ma già ai tempi dei giardini pensili di Babilonia per l'irrigazione si usano delle pompe che erano sicuramente state progettate da ingegneri antelitra. Però questa lunga tradizione non deve far pensare che sia un campo ormai statico e antico, perché si aprono davanti a noi nei prossimi decenni delle sfide entusiasmanti per l'ingegneria meccanica. Ve ne voglio citare solo alcune. Pensate alle aspettative che abbiamo negli sviluppi della robotica intelligente e autonoma, anche per compiti di assistenza alla vita quotidiana, alle persone disabili, quindi non solo nel contesto industriale, oppure alle nanotecnologie che promettono di rivoluzionare le modalità con cui inventiamo nuovi materiali perché abbiano proprio le proprietà che ci servono e che consentiranno di realizzare dispositivi che ancora al momento sono impensabili. Oppure alla necessità di dare all'uomo, all'umanità, energia in quantità sempre crescente in maniera eco-compatibile, dato che il nostro pianeta ormai sta raggiungendo i limiti della sostenibilità e alle prospettive che le nuove tecnologie di manifattura additiva come la stampa tridimensionale, con cui tra l'altro sono stati realizzati molti di questi componenti di un motore sperimentale, metteranno a disposizione di tutti nella propria cantina la possibilità di realizzare pezzi unici a bassi costi con delle forme che sarebbero irrealizzabili con tecnologie tradizionali. L'ingegneria meccanica si caratterizza anche per un amplissimo spettro di discipline che la compongono e questo consente all'ingegneria meccanico di acquisire una versatilità invidiabile rispetto anche a altre forme dell'ingegneria e che poi ha delle ricadute importanti nel mondo del lavoro. L'ingegneria meccanico è una figura che si trova praticamente in ogni contesto industriale, dall'industria agroalimentare a quella farmaceutica, a quella petrolifera, a quella chimica. Ogni volta che c'è qualcosa di tangibile, anche un prodotto elettronico, ma che abbia una sua fisicità c'è sicuramente il contributo dell'ingegnere. L'Italia nella meccanica di precisione, nella produzione industriale ha una posizione di leadership ormai consolidata, era il sesto paese manifatturale nel mondo, il secondo in Europa dopo la Germania. Praticamente la domanda per gli ingegneri meccanici è stabile nel tempo e quindi le prospettive occupazionali sono sicuramente molto soddisfacenti. La meccanica si articola sostanzialmente in quattro grandi aree, la prima area, quella più tradizionale, è quella della progettazione meccanica, cioè le competenze che consentono di realizzare dispositivi e macchinari di qualunque tipologia e che consentono di fatto di migliorare le attività umane e la vita umana. Perché l'uomo ha bisogno di macchinari che poi sono realizzati con le competenze di ingegneri meccanici, essenzialmente per tre motivi. Primo, per poter fare cose che altrimenti sarebbe impossibile realizzare. L'uomo non può volare ma se gli diamo un aeroplano che è un sistema meccanico comunque complesso è in grado di volare. Se noi volessimo fare un foro a mano sarebbe molto difficile ma se avessimo a disposizione un trapano elettrico la cosa diventa molto più semplice. E la terza motivazione è avere a disposizione macchinari che ci consentono di fabbricare prodotti e macchinari e che altrimenti non sarebbero realizzabili e quindi la produzione industriale. Nessuno di noi avrebbe utilità nell'avere un telaio meccanico a casa ma se lo inseriamo in un'industria tessile ecco che dal cotone noi riusciamo a ottenere una tela con cui poi possiamo realizzare dei pantaloni che potremmo indossare. Il secondo campo è quello dell'energetica. Come ho già detto ogni attività umana consuma energia e questa energia deve essere fornita nel momento e nel luogo dell'utilizzo in grandi quantità a costi bassi. E quindi gli ingegneri meccanici in questo campo si occupano di studiare tecnologie e impianti che consentono di convertire le risorse naturali in energia termica, meccanico-elettrica cioè nelle forme che sono direttamente utilizzabili. L'impatto della disponibilità di energia nello sviluppo dell'umanità è eclatante. Basti pensare alla rivoluzione industriale che è cominciata con la disponibilità della macchina a vapore utilizzante l'energia del carbone oppure all'impatto che ha avuto sulla mobilità individuale la possibilità di disporre di motori a combustione interna che utilizziamo quotidianamente nelle automobili, nelle motociclette eccetera. Il terzo campo è quello della produzione industriale tipicamente manifatturiere, qui l'ingegnere si occupa di sviluppare i processi tecnologici di lavorazione che consentono di processare le materie prime e gli impianti industriali in cui hanno sede questi processi che consentono di realizzare prodotti complessi, beni strumentali, beni di consumo. La terza area è quella dello studio dei materiali, quindi sfruttare le materie prime che la terra ci mette a disposizione per realizzare materiali con le caratteristiche adeguate a soddisfare l'esigenza umana e i prodotti che vogliamo utilizzare quotidianamente. La storia dell'uomo ha visto inizialmente l'utilizzo dei materiali che la terra ci mette a disposizione, il legno, la pierra, poi l'uomo ha imparato a sfruttare i minerali per realizzare ad esempio i metalli, il ferro, poi ne ha migliorato le caratteristiche per arrivare all'acciaio e ora noi con le nanotecnologie siamo in grado di agire a livello addirittura atomico per creare materiali che non esistono e che addirittura possono cambiare le prestazioni in corso d'opera in funzione dell'ambiente che ci circonda, quindi aprendo delle prospettive inimmaginabili fino a pochi anni fa. Ma consentitemi di concludere questa breve chiacchierata richiamando alcuni principi fondamentali dell'ingegneria, quali che sia la branca che poi voi vorrete scegliere. Caratteristiche comuni a tutti gli ingegneri a mio avviso sono quattro, il fatto di doversi sempre necessariamente confrontare con i vincoli dati dalle leggi naturali, l'ingegnere non può barare, una cosa o funziona o non funziona, o regge o crolla, non c'è spazio all'interpretazione. L'altro aspetto fondamentale è l'approccio quantitativo, l'ingegnere basa le proprie scelte, le proprie decisioni, le proprie attività su dati oggettivi, su calcoli, su numeri e quindi nel suo approccio all'analisi del problema c'è sempre la formulazione di un qualche modello matematico che ci aiuta a prevedere l'esito delle nostre decisioni, ma sempre in maniera oggettiva e quantitativa. Il terzo aspetto è la ricerca sempre dell'efficacia e dell'efficienza con cui noi affrontiamo i problemi e quindi la ricerca dell'ottimizzazione, anche sapientemente cercando di trovare un punto di equilibrio tra esigenze contrastanti perché l'ingegnere ha sempre la necessità di considerare tutti gli effetti anche collaterali della propria attività per trovare una sintesi soddisfacente. Ultimo punto è l'attività di progettazione che è centrale nell'attività dell'ingegnere. Dopo la fase di analisi abbiamo un momento di sintesi in cui si manifesta l'attività creativa dell'ingegnere e le scelte che determinano la configurazione finale del prodotto, del processo che stiamo realizzando. Quindi nulla è lasciato al caso, nulla è improvvisato, l'ingegnere pensa, progetta e solo dopo che è convinto del progetto avendo valutato tutte le conseguenze è in grado di agire. Questo a mio avviso costituisce la mentalità dell'ingegnere e quindi in conclusione direi che intraprendendo studi ingegneristici voi acquisirete sicuramente delle solide basi scientifiche, oltre naturalmente a competenze specialistiche nel campo dell'ingegneria meccanica, ma acquisirete anche quella elasticità mentale che vi renderà progettisti o manager di ampie vedute, capace quindi di una visione globale che possa integrare elementi tecnici, economici, organizzativi per rendervi persone che alla fine sono in grado di risolvere i problemi. Grazie a tutti.